Un patto tra Estra e le associazioni di consumatori è stato infatti siglato il protocollo di autorregolazione volontaria in materia di contratti e attivazioni non richieste del gruppo Estra tra la Multi Utility Toscana e le principali associazioni di consumatori regionali e nazionali iscritte al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. Innanzitutto è un percorso che si compie, una condivisione con tutte le associazioni di consumatori dove abbiamo messo a fuoco tutti quei punti che vanno verso la massima soddisfazione e tutela della clientela e evitano soprattutto di incappare in contratti non richiesti, in scorrettezze commerciali. Quindi abbiamo informato tutta l'azione commerciale a principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, affidabilità dell'offerta. Quindi tutta l'espressione contrattuale della volontà del cliente è tutelata da tutto un percorso che affatica sì la procedura, ma che tutela sia il buon nome di un'azienda che vuole affermare quei principi, sia il consumatore che deve avere la certezza di quello che sta facendo. Si tratta di un documento che prevede una serie di misure per tutelare i clienti e i potenziali clienti nel momento della conclusione dei contratti di fornitura di energie elettriche e gas stipulati per telefono o in un luogo diverso dall'ufficio commerciale. Prevede un sistema di regolazione per tutti quanti i contratti attivati dalla società in maniera tale da garantire ai cittadini che non ci siano contratti attivati e non richiesti. Secondo regola i rapporti tra le associazioni e l'azienda per gestire eventuali problemi contenziosi e arrivare per via conciliativa a dare risposta ai cittadini, agli utenti che dovessero avere difficoltà.